Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti tra Aglio e Calenzano nella carreggiata in direzione sud. In FIPILI per la mobilità troviamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze in via del Gignoro fino al 18 novembre. Per lavori per l'estensione della rete di distribuzione del gas e un nuovo allacciamento, la strada sarà chiusa dalla biforcazione di via del Gignoro dopo il civico 42-1 a via della Torre. Prima di salutarci informiamo che è stata firmata ieri sera la nuova ordinanza regionale con le regole per uscire dal proprio comune tutti gli spostamenti consentiti in riferimento all'emergenza sanitaria coronavirus. Tutti i dettagli sul sito della Regione Toscana. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!